Di recente Charlene di Monaco sarebbe stata recuperata per via di un forte esaurimento che la donna avrebbe avuto, avrebbe accusato. E' ciò di cui vi informo in questo video di oggi, rendendomi protagonista di tale vicenda, di tale situazione, andandovela a descrivere in maniera molto breve, ma mi auguro esaustiva per voi. Starebbe alla base di questo ricovero ospedaliero un forte esaurimento nervoso che la donna avrebbe avuto di recente, di conseguenza sarebbe stato o reso obbligatorio il ricovero in ospedale proprio della donna in questione, famosa in tutto il mondo, non soltanto in Francia e o in Germania. Per lei è stato veramente abbastanza critico. Non è un evento scioccante o debilitante riguardo alla psico-umana, sia ben chiaro, però anche la psico-umana a volte può essere fragile e può avere dei disturbi o meglio delle patologie mentali. Detto ciò, grazie a tutti. Il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano. Commentate. Un saluto nei commenti. Un saluto nei prossimi video.